c'è una a dormire guarda cosa c'è là penso che se fosse un barbone si è già scappato dalla caga immagini che se io non avessi una casa e dovessi dormire qua immagini che magari c'è un troflesto di qualche uomo no non direi si sentirebbe la fozza si vede? si tanto? qualcosa si aspetta c'è una melma in pesce no meno male che non sono entrato in quella foccia era qua che ho sentito il crollo il cedimento la scorsa volta che fa difficile qua ecco evitiamo le focce è un po' no ma è tutto sport come mai qua sotto è più bagnato di là e te cammini in pesce e te ci saranno le perdite stessi di me cammini un po' faccio una foccia ma stanno faccio un disegno aspetta mi sa che l'abbiamo fatto noi davvero? no no questo non anni fa eravamo venuti a fare dei disegni noi amiamo la pioggia questa è l'ora favorita merda aspetta non andiamo giù di là non giù di là e poi giù è una pocia andiamo giù di qua divieto di caccia qua c'è guarda è una cosa benedetta cosa? guarda no madonna no no un cero? un cero candela una roba indiana patà una roba indiana aspetta aspetta ti devo vedere dove sono le pocce dopo le pietre dopo gli lasciano i terreni ti immagini adesso c'è una nutria incrociata con un ghepardo hai visto qua un arbusto lì hai visto quell'albero sotto il ponte che poverino vero ti senti da solo e sai che le piante lo sentono quando l'uomo le accarezza proprio sarà un po' più sulla sulla un po' più Stai immobili. Stai immobili. Stai immobili. E' una nutria. E' una nutria. Sono le nutrie che stanno facendo il bagno. Io lo so. E' un coccopiglio. E' un coccopiglio. Cor coming. Viene che cazzo di qua ha meglio andare. Chi sa che cazzo sia. D conviene complimentary. Che cazzo sta trascendendo. E' che? ci saranno anche qui ci siano conippene. Ahhhh! 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 Que che che era? No, non c'è davanti Que che è? Che che? Che che era? chi era? è un urlaso era dietro perché troia cazzo non è una mano giusta mi stai spagando si è sentito? si è sentito? si è sentito si è sentito si vabbè immagini questa gente che va a farsi batti non si sentiva niente un po' di colpo si è cominciato a sentire i rumori mamma mia è bello che gli hai aspettato quando l'hai sentito più vicino o quando l'ho detto guarda che comunque non si sa cosa c'è dentro cazzo no perché non hai lasciato la telecamera che veniva a prenderla la trabina ancora se la lasci lì si chiacchietta la ruba il fantasma no ma qualcuno va giù lì non siamo gli unici che vanno lì vabbè ma domani mattina appena c'era la luce no adesso guardiamo giù dal po' però non questo mi sembra che era l'altro vero non era questo non era questo non lo hai sentito Non, 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 non Grazie a tutti.